eccoci qua amici quella che vi presento oggi è una torta gluten free a base di amidi infatti utilizziamo l'amido di riso e l'amido di mais quindi è una torta sicuramente adatta ai celiaci ma anche semplicemente a chi ama una cucina più digeribile essendo noto insomma che il glutine molti non lo tollerano infatti molte persone si definiscono intolleranti al glutine proprio perché è qualcosa che crea fastidio anche se non sono allergici quindi sicuramente è una ricetta che possiamo proporre facilmente anche ai nostri ospiti non sapendo mai se troviamo qualche persona intollerante la base è principalmente al cioccolato fondente che è il sapore preponderante abbiamo del burro ma possiamo utilizzare anche del burro senza lattosio e così renderlo anche una ricetta adatta agli intolleranti al latte abbiamo quattro uova mezza bustina di lievito pane degli angeli e qui abbiamo lo zucchero moscobato e qui ne abbiamo 200 grammi qui abbiamo 60 grammi di amido di riso biologico per alimenti poi abbiamo 150 grammi di amido di mais e abbiamo 70 grammi di cocco rapè biologico questo è un cocco eccezionale che viene dall'indonesia l'ho finito vi ho fatto vedere insomma la bustina ma potete utilizzare un cocco rapè industriale in quel caso magari potete aggiungerne anche un po di più per far sì che il sapore sia per voi più o meno intenso questo è molto profumato quindi ne ho messi 60 grammi del cioccolato fondente ne abbiamo 200 grammi il burro vi ho detto può essere anche senza lattosio e sono 200 grammi come aroma potete utilizzare a vostra discrezione rum o vaniglia quindi scegliete voi non l'ho messo qui negli ingredienti ma lo metterò nella descrizione uniamo il burro e il cioccolato fondente e lo poniamo dentro il forno a microonde per un paio di minuti e poi lo mescoliamo insieme lo uniremo agli ingredienti allora abbiamo messo la mezza bustina di lievito lo zucchero moscobato e le quattro uova ora provvediamo a montare molto molto bene fino a rendere il tutto spumoso e bello gonfio questa torta non ha la farina classica e neanche poca perché in realtà solo due amidi e un po di farina di cocco quindi non sarà la classica torta alta soffice e a volte un po più asciutta ma sarà una torta più bassa ma molto umida e gustosa quindi ideale anche per essere mantenuta più giorni se non aveste modo di reperire l'amido di riso potete sostituirlo con la fecola di patate o eventualmente aggiungerlo o sostituirlo anche con della farina di riso insomma potete mixare queste farine che in realtà sono degli addensanti ma contribuiscono comunque a rendere i dolci sempre molto soffici quindi seguitemi ora montiamo questi primi ingredienti ecco amici come vedete tutte queste bollicine e l'aria che abbiamo incorporato con le uova e lo zucchero con una forte sbattitura ho utilizzato infatti le fruste elettriche ora aggiungeremo le nostre farine quindi gli ingredienti che abbiamo già preparato mixati e il cioccolato fondente fuso diciamo che questo dolce potrebbe essere assimilato un po a quella che è l'idea di un brownwins solo che è leggermente diverso perché differisce per l'assenza di alcuni ingredienti però gli può somigliare quindi per darvi l'idea insomma se vi piace quel tipo di dolce burroso umido e cioccolatoso questo sicuramente è quello che dà la carica d'energia la mattina a colazione e sicuramente è anche quel comfort food di cui tutti abbiamo bisogno spesso mix questi altri due ingredienti e vi faccio vedere cosa otteniamo inizio con le farine come vedete amici questo è un impasto molto denso quindi vi faccio vedere la consistenza per darvi un po l'idea di quello che sarà poi il risultato sarà quindi un risultato di una sorta di torta tenerina molto densa e cremosa qualora vi piacesse invece un risultato un po più soffice un po più classico torta al cioccolato però dal sapore forte basta aggiungere un bicchiere di latte o un bicchiere di acqua e aumentare il lievito da mezza bustina ad una bustina in quel caso otterremo comunque una torta stile plum cake veramente molto goduriosa quindi l'impasto in quel caso sarà un po più fluido e avrà la consistenza classica del plum cake qui invece facciamo un qualcosa di leggermente diverso ma lo vedremo a fine cottura ora preparo lo stampo con della carta forno e inforniamo per una ventina di minuti non di più amici ecco il dolce pronto da per essere informanti infornato io al momento non metto nulla sopra utilizzerò forse solo dello zucchero a velo ma credo la lascerò proprio così perché è veramente molto cioccolatosa con quella dose considerate che vengono sei porzioni abbondanti oppure diciamo quattro porzioni belle grandi grandi più ho fatto questi cinque muffin quindi potremmo dire che è sicuramente per 6 8 persone golosissime ora la inforniamo come vi ho detto a forno già caldo abbiamo preparato il forno a 180 gradi già caldo e messo il timer a 20 25 minuti e poi come al solito la prova dello stecchino quando è asciutto la togliamo la consistenza come vedete è umida e cioccolatosissima fatemi sapere se è piaciuto anche a voi io lo trovo godurioso un abbraccio grazie a tutti no no Grazie a tutti.